Ciao a tutti ragazzi, allora mi dispiace non essere stato presente oggi nella consueta pausa pranzo ma dato che c'era la conferenza stampa alle 2.30 ho preferito semplicemente non pubblicare un video di informazione, di chiacchiera superflua perché immaginavo che ci sarebbe stata poi tanta carne sul fuoco di cui discuterò oggi pomeriggio ed effettivamente è così, quindi preparatevi perché molto probabilmente questo sarà un video abbastanza lungo perché ci sono stati davvero tanti argomenti toccati sia da Danilo sia da Allegri perché ovviamente come sempre alla vigilia di una partita europea c'è anche un giocatore al fianco dell'allenatore ed è stato scelto quello che in questa stagione più di tutti gli altri ha indossato la fascia di capitano al braccio quindi direi di partire proprio dalle parole del difensore brasiliano ex Manchester City che dice domani dobbiamo essere nella nostra miglior versione ricordatevi questa frase miglior versione perché tornerà fuori anche incrociata una domanda per Allegri l'ultima domanda di questa conferenza stampa lo Sporting ha eliminato l'Arsenal e questo dimostra la loro forza nella competizione dobbiamo provare a vincere la partita con sabievoli che non finisce domani ma che ci sarà un'altra partita mi fermo subito lascio da parte già le parole del nostro numero 6 perché nel video di ieri io vi ho detto che nel calcio e soprattutto nella Champions abbiamo visto negli ultimi anni che si può anche sbagliare una partita tra andata e ritorno attenzione non significa che io voglio che la Juve sbagli la partita o sia qui a giustificare la Juve per un eventuale errore di una partita io vorrei vincere domani sera e vincere a ritorno vincere e vincere tranquillamente tra 0 tra 0 e essere sicuro di passare il turno ho semplicemente detto che abbiamo visto negli ultimi anni che le partite a eliminazione diretta tra andata e ritorno di una determinata competizione che sia la Champions che sia l'Europa League anche se si sbaglia una delle due partite ci sono state tante squadre che hanno ribaltato il pronostico non ho detto niente di diverso da quella che è la realtà dei fatti basta andare a prendere le ultime edizioni della Champions e andare a vedere ribadisco come ho detto anche ieri il Real Madrid l'anno scorso praticamente ha ribaltato tutte le partite all'interno magari addirittura delle partite stava perdendo gli ultimi dieci minuti l'ha ribaltata ci sono state partite meravigliose in Champions League negli ultimi anni proprio per questo non ho detto che la Juventus dovrà sbagliarne una a indovinare l'altra ho semplicemente riportato quello che è accaduto negli ultimi anni nelle competizioni poi io mi auguro che non ci sia un'andata e un ritorno differente mi auguro che non ci sia una partita mi auguro 3-0-3-0 cerchiamo di non andare a vedere cose che sono differenti da quelle che in realtà sono la realtà o da quelle che sono state dette quindi questo è e quindi speriamo dai speriamo che possa essere la miglior versione della Juventus e ripeto tenetevela calda perché chi ha visto la conferenza stampa sa già dove voglio andare a parare chi non l'ha ancora vista e solitamente si fa un resoconto, un riassunto delle parole eccoci qua e poi gli chiedono dato che tu hai firmato il rinnovo di contratto anche in questo momento difficile per la Juve qualche consiglio da dare a Di Maria e lui dice sono questioni personali i rinnovi questa è la mia quarta stagione alla Juventus e tutto questo tempo è volato ho sfruttato ogni momento anche i più difficili la mia scelta è stata facile quando abbiamo parlato di rinnovo c'è sempre stata buona sinergia è stata una scelta di cuore scelta che secondo me potrebbe fare più Di Maria rispetto a Rabiot di cuore se di cuore si può parlare per un giocatore che è arrivato da un solo anno alla Juventus però stiamo parlando di un giocatore che ormai è sul finale di carriera contro un giocatore che Rabiot Di Maria sul finale di carriera contro un giocatore che Rabiot ha la possibilità di firmare l'ultimo grande contratto della carriera quindi siccome sono proprio situazioni differenti vediamo che cosa succederà solitamente dico che la crisi è un'opportunità è successo anche alla Juve con i giovani che solitamente non giocano tanto ma in questa stagione ci hanno fatto vedere le qualità per indossare la maglia della Juventus ognuno deve assumersi la propria responsabilità alla Juve non puoi stare senza responsabilità questa è una frase secondo me meravigliosa che andrebbe scolpita sulla pietra andrebbe messa se magari c'è già e Danilo l'ha solo citata davanti agli spogliatoi della Juventus perché davvero ci vuole responsabilità per indossare la maglia della Juventus e rappresentare la Juventus in campo che sia in Italia, che sia in Europa, che sia in Coppa Italia che sia in un amichevole ci vuole responsabilità e questo deve essere chiaro a tutti i giocatori che arrivano, tutti gli allenatori, tutti i dirigenti a volte anche ai tifosi perché ci sono anche dei tifosi che dovrebbero assumersi un po' più responsabilità era un giocatore che correva sempre andava duro nei duelli per portare avanti ogni palla quello che ha portato lo sporting e il suo modo di giocare è un allenatore che vuole recuperare palla in modo rapido così come era il calciatore io non conosco l'allenatore dello sporting non so come è stato il giocatore questo è quello che ha detto Danilo ce lo facciamo andare bene in questo momento è normale avere stanchezza fisica e mentale la differenza in questo momento la fanno quelli che mantengono un atteggiamento alto a livello di concentrazione e preparazione quelli che vincono mantengono lo stesso livello durante la stagione allora quello che dice Danilo non è errato non è errato perché sono delle squadre che vincono proprio perché riescono a mantenere questo livello di concentrazione molto elevato io credo che sia anche la cosa più difficile all'interno dello sport addirittura ci sono dei giocatori io prendo sempre Gianluigi Buffon faccio sempre esempio di Gianluigi Buffon perché qua non si parla di una singola stagione qui si parla di una carriera di anni, 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 anni e quindi questi giocatori che sono dei fenomeni a livello sportivo in generale che riescono a mantenere sempre alto questo livello di concentrazione e sono immortali da questo punto di vista secondo me sono delle vere e proprie forze della natura quindi Danilo secondo me ha detto una cosa vera e vediamo se la Juventus riuscirà a mantenere alto questo livello di concentrazione e di preparazione abbasso un po' il microfono che così non si vede all'interno della ripresa spero che vada bene comunque Bremer è fisicamente uno che in campo mangia tutti nei contrasti e nei duelli aerei fuori dal campo invece ascolta sempre e vuole imparare Bremer ha avuto un processo di crescita e deve migliorare come naturale che sia è diverso però questo progetto di processo di crescita nelle altre squadre e nella Juve poi secondo me Bremer è bravissimo e può diventare ancora molto più bravo queste sono delle belle parole di Danilo nei confronti del suo compagno di squadra e collega di reparto Bremer è vero anche il discorso della crescita in una squadra differente da una big perché questo è un dato di fatto lo sappiamo e secondo me stava cercando anche di indirizzare non solo a Bremer ma anche altri calciatori che può essere Vlaovic e dopo si è parlato pure di Vlaovic questo messaggio che è molto importante e deve passare l'ansia sul ricorso è normale ma noi proviamo a parlarne il meno possibile e rimaniamo concentrati sul campo quello che succederà fuori dal campo è una cosa di cui deve occuparsi la società noi invece rimaniamo concentrati sul campo che altro poteva dire io credo anche che sia uno slot di una domanda sprecata perché un calciatore che cosa ti deve dire? che pensa al processo? che la sua preoccupazione è quella? che spera di ottenere i 15 punti? perché se no la stagione è fallimentare? un calciatore ti deve rispondere così senza troppi giri di parole questo ti deve dire il calciatore non so sinceramente perché fare delle domande simili non riesco a capire quale risposta si voglia ottenere però questo è quello che faccio ora non è diverso da quello che facevo al mio arrivo esiste una gerarchia certo che va rispettata io da sempre cerco di aiutare i più giovani e voglio essere riferimento perché è in difficoltà io sono felice ma le valutazioni non cambiano ho sempre fatto questo lavoro e questo riapre un po' il discorso che facevamo qualche tempo fa dove dicevo già ai tempi di Sarri mi parlavano di un Danilo leader e io non capivo perché dicevo ma sì Danilo è appena arrivato e poi il primo anno con Sarri sembrava un giocatore ben lontano come potenziale titolare la Juve invece c'è stata un'evoluzione di Danilo in questa stagione poi giocatore meraviglioso veramente in questa stagione sta giocando un ottimo calcio e lui dice comunque che ha sempre avuto questa cosa qui e si collega appunto con quello che vi dicevo qualche tempo fa qualche anno fa e quindi Danilo è sempre stato parola sua un giocatore che all'interno dello spogliato cercava di aiutare i più giovani e quelli in difficoltà la valutazione sulla partita della Lazio va fatta riversamente spesso loro non fanno giocare gli avversari fino al sessantesimo barra settantesimo poi siamo stati vicini a segnare noi dobbiamo essere consapevoli che le partite vanno giocate fino al novantesimo a volte capita che gli avversari non ti facciano giocare tanti minuti ma puoi poi vincere la partita allora qui sì e no nel senso che è vero che la Lazio solitamente parte forte poi è un momento di flessione e sicuramente sul finale la Lazio inizia a cedere ma questo l'avevamo visto nell'analisi della partita che avevamo portato qui sul canale youtube il giorno della partita prima ovviamente di giocarla e vi dicevo fino all'ultimo secondo la Lazio concede qualcosa e lì si può sperare loro partono forte ma poi si può sperare però la Juve dei primi 60 minuti è francamente insufficiente io non credo che si possa fare un tipo di analisi nell'evidenziare che la Lazio solitamente no la Lazio solitamente lo fa e l'ha fatto anche l'altra sera è stata bravissima a farlo ma noi siamo mancati nell'ultima mezz'ora e lo sapete io ve l'ho anche detto nel video post partita nelle varie comunque nei vari contenuti che ho caricato sul canale secondo me ai punti poi il pareggio ci poteva pur stare perché la Juve ha avuto le occasioni però se poi non la butti dentro e non la pareggi allora parli di una sconfitta meritata nel complesso perché loro comunque sono sembrati più squadra poi il calcio è uno sport episodico è uno sport che ai punti se ne frega altamente la Juventus poteva pareggiare sì l'ha fatto o no la Lazio ha vinto questa credo che sia l'analisi più logica della partita non il fatto che le altre squadre solitamente non giocano bene contro la Lazio noi nella nostra partita in primi 60 minuti non l'abbiamo fatta e quando si parlava prima della miglior versione della Juve sicuramente non è quella deve essere magari quella degli ultimi 30 minuti ma ripeto ancora una volta ci arriviamo dopo perché ad Allegri hanno fatto praticamente la stessa domanda mi fa molto piacere dice Danilo parlare di Federico Gatti è un esempio per tutti noi uno che arriva dalla B alla Juventus poi sta 6-7 mesi senza giocare ma senza mollare un centimetro e continuando a lavorare e poi arriva il momento e dimostra avere di qualità di stare la Juve è meraviglioso è umile ascolta sempre e ci dimostra che vuole rimanere qui anche questa è un'investitura importante da parte di un giocatore importante all'interno dello spogliatoio come Danilo nei confronti di un ragazzo che io ho avuto la fortuna l'opportunità di incontrarlo due volte Gatti e mi ha dato esattamente questa sensazione di umiltà incredibile perché l'ho visto a Villar Perosa svestirsi di tutto con già la squadra negli spogliatoi a fare la doccia e lui che era l'unico rimasto sono dovuti venirlo a prendere per portarlo dentro gli spogliatoi a fare la doccia perché sarebbe rimasto lì in mezzo alla gente tutto il giorno l'ho visto a Parigi dopo la sconfitta con il PSG in Champions sotto la pioggia con tutta la squadra che andava sull'autobus o sul pullman per entrare in hotel lui sotto la pioggia è venuto a salutare noi tifosi che eravamo lì dalle transer quindi io di Federico Gatti ho semplicemente un ricordo meraviglioso nei due contatti che ho avuto con lui e credo che da questo passi pure l'umiltà vera e propria come l'ha definita Danilo quindi mi fa piacere che si parli di lui mi fa piacere che anche i suoi compagni spendano queste belle parole per lui anche Alexandro Inzano l'aveva fatto e soprattutto sono contento che si sia riuscito a ritagliare uno spazio alla Juventus sperando che possa esserci continuità all'interno di questa titolarità di Federico Gatti perché penso banalmente al di là di tutto quello che si può dire raccontare aneddoti e altro che in campo ha dimostrato che ci può stare in questa Juventus punto quello che succede a Dujan fa parte di un percorso solo lui può risolverlo con lavoro e pazienza anche durante gli allenamenti e nei momenti di riposo lui pensa fare il meglio prima per la squadra supererà questo momento non facilmente perché nel calcio niente è facile ma con la qualità e la testa che ha ci riuscirà anche queste sono belle parole di Danilo nei confronti di un compagno che in questo momento sta passando un brutto periodo e che domani non sarà titolare ma ci arriviamo è vero perché Vlaovic sta veramente giocando tanto per la squadra poco per lui e poi quando arriva il momento lì non è abbastanza lucido e cattivo in questo momento e quindi passa da lui e credo che Danilo abbia fatto la fotografia perfetta del momento di Vlaovic giocatore che aiuta la squadra e che per aiutarsi dipende da lui passa da lui dal lavoro dal riposo e dalla tranquillità che ha io l'altro giorno vi dicevo secondo me per aiutare Vlaovic a uscire da questo momento di crisi è giusto che si faccia qualche panchina è giusto che riposi che si rilassi che si tolga probabilmente dalle spalle dalla schiena questo peso incredibile di responsabilità che in questo momento gli sta facendo male quindi la fotografia credo che sia lucida perfetta dice ancora non ho parlato a Vlaovic di altri attaccanti perché ogni percorso è personale lui lavora sempre tanto ogni giorno e prova a lavorare anche a parte con mister e collaboratori appena ricomincerà a segnare farà la differenza lui ci aiuta sempre anche nella fase di difensiva in un possesso e non è solo un giocatore in grado di segnare queste sono le parole di Danilo ribadisco in gran parte mi sono sentito mi sono trovato d'accordo con quella che è stata l'analisi di Danilo non proprio tanto mi sono rivisto nel discorso relativo a Lazio Juve dove ha comunque difeso la prestazione dei suoi compagni forse anche il fatto che lui non fosse in campo dato in questa direzione per il resto secondo me ha fatto una fotografia abbastanza chiara lucida e precisa di quello che è il momento della Juventus rispondendo alle domande che gli sono state fatte e poi arriviamo a Massimiliano Allegri ora parliamo invece della conferenza stampa dell'allenatore allora se nell'ultima conferenza stampa pre Lazio Juventus vi avevo detto che avevo visto un Allegri confuso a volte anche proprio impreciso e soprattutto stanco per via della tosse e della malattia che oggi l'ho visto completamente dall'altra parte oggi mi è sembrato di assistere a una conferenza stampa di un Allegri primo ciclo perché oggi mi è sembrato di vedere un Allegri così carico e sicuro dei propri mezzi e così carico e sicuro dei mezzi della squadra che sembrava di essere all'interno di una conferenza stampa di un quarto di Champions League con una squadra che si trova al primo posto in campionato di una cosa un momento perfetto meraviglioso cioè risposte taglienti risposte anche a volte dure di un certo tipo a difesa di quello che si sta facendo quindi io ho visto un Allegri veramente sereno oggi sono lieto che sia così lui perché io ad oggi in questo momento qui alle 15 del pomeriggio del giorno prima sto sto iniziando a a sentire la tensione sto iniziando a sentire l'ansia da prestazione anche vedendo quello che è successo ieri sera con l'Inter che a Lesbon ha fatto quello che ha fatto stasera c'è un'altra partita importante di Champions per il Milan contro il Napoli e noi siamo invece in un'altra competizione e comunque quest'ansia perché comunque questa stagione che è questa stagione cosa succede sono contento di vedere almeno l'allenatore carico tranquillo e rilassato spero che possa essere anche un segnale in vista di domani me lo auguro lo Sporting nelle ultime 11 partite ha fatto 7 vittorie e 4 pareggi sono andato a controllare effettivamente è così dopo tra l'altro uno di questi pareggi l'ha vinta i calci di rigore sono tecnici ed organizzati l'allenatore è giovane e bravo nel 2021 ha riportato il campionato allo Sporting dopo 19 anni anche questo confermo l'ultima volta l'aveva vinta nel 2001 2002 mi pare che sia il 18esimo 19esimo titolo dello Sporting sappiamo che domani è il primo passaggio per creare i presupposti per andare a prenderci il passaggio del turno a Lisbona e ricordi del Vietnam ricordi del Vietnam a pensare alle partite con le portoghese in quest'anno però speriamo speriamo davvero Aleksandr Vlaovic sono a disposizione De Sciglio si spera domenica a Sassuolo Vlaovic potrebbe giocare anche 90 minuti per quella che è la sua forma fisica ma ha preso un colpo alla caviglia quindi sarà a disposizione e Allegri qua ci fa capire che Vlaovic non partirà dal primo minuto ve lo dico già adesso credo che Allegri abbia spoilerato il fatto che domani la Juventus si scenderà in campo con la difesa 4 ma ci arriviamo la squadra non è nervosa siamo sereni poi accadono cose in campo perché abbiamo il sangue nelle vene sarebbe un problema se circolasse l'acqua abbiamo avuto delle reazioni perché l'Allianz avrebbe fatto questa lettera di richiamo alla Juventus per quello che è successo nel finale di Juve Inter Allegri dice questo non giustifica quello che è accaduto allo stadio che non è stato bello da vedere purtroppo siamo in Italia e vengono esaltate cose parole comportamenti e gesti sbagliati a noi dispiaciuto molto il primo è quadrado non sono cose belle da vedere ecco a me fa piacere che Allegri parli del fatto che in Italia vengano esaltate cose, parole comportamenti e gesti sbagliati vi faccio un esempio banalissimo uno degli argomenti più discussi in questo periodo in queste ore in Italia per quanto riguarda il calcio è lo scontro a distanza tra Cassano e Murigno si sta dando un'importanza una rilevanza incredibile allo scontro a distanza tra Cassano e Murigno ditemi questo che cosa ha a che fare col mondo del calcio soltanto i protagonisti hanno a che fare col mondo del calcio ma non si sta parlando di calcio e questo è comunque un argomento da prime pagine da discussione da trend topic sui social network eccoci qua benvenuti in Italia va bene così andrà bene così pressione alla Juve c'è sempre noi dobbiamo continuare a lavorare sul campo per questi due mesi e cercare di riempire il calendario a maggio nel caso avremo due semifinali da giocare e vedremo se riusciremo ad essere bravi e fortunati a raggiungere anche la finale di Coppa Italia la squadra è solida sulle notizie che arrivano o non arrivano questa esperienza unica ci fortificherà tutti in primis io poi la società e anche i ragazzi Danilo diceva bene ogni situazione deve diventare opportunità noi pensiamo al campo la società pensa difendersi nelle sedi opportune la sconfitta di sabato non ha cambiato i risultati fatti in campo abbiamo fatto 59 punti vediamo cosa facciamo nelle prossime partite questo può piacere o non piacere ma è così i ragazzi si sono dimostrati sul campo la seconda forza del campionato è chiaro a tutti anche a quelli a cui non piace io qua tiro su le maniche mi metto comodo scranchisco anche un attimo il collo e faccio un grande grandissimo applauso a Massimo Emiliano Allegri perché io lo dirò sempre lo dirò sempre in questa stagione ho visto un Allegri con dei seri limiti a livello di comunicazione ma post sentenza tutte le volte che gli è stata fatta la domanda su questi momenti della Juventus lui ha fatto esattamente così si è tirato sulle maniche e non ha mai sbagliato una virgola non ha mai sbagliato una parola ha sempre difeso quello che è stato fatto dai ragazzi quello che è stato fatto dalla squadra quello che è stato portato a casa e lo sta continuando a mettere in primo piano il focus principale quindi dal punto di vista comunicativo sul discorso penalizzazione penalità e di come è riuscito comunque all'interno di un momento complicato a tenere alta la concentrazione della squadra questo è meraviglioso questa è sicuramente la cosa da salvare in questa stagione perché questa è la cosa da salvare in questa stagione non credo di aver capito bene non ha capito neanche Siri beh vabbè questo succede poi tutto il resto quindi i giudizi le valutazioni quello che è la stagione il grado di felicità del tifoso che ha venuto in questa stagione secondo me è totalmente rivedibile è totalmente discutibile si potrebbe star qua ore e ore e ore ad avere discussioni con visioni e pensieri differenti io come ho detto io non sono proprio soddisfatto lo sapete bene di quella che è questa stagione nemmeno di quello che è stato il lavoro dell'allenatore per tante volte lo sapete bene e tanti ecco me fa ridere che tanti mi considerano anti-allegri mi dicono che allegri mi è antipatico tanti invece mi dicono che sono un servo un lecchino di allegri mondo è bello perché vario io sono entrambe le cose perché non ho problemi a dire quando allegri mi piace quando allegri non mi piace sappiamo che è un argomento super mega iper giga divisivo su questa cosa qui e cioè su quello che dice allegri ai microfoni quando parla di quello che è accaduto alla juventus in questa stagione roba allucinante all'interno nel mezzo di un campionato di calcio allegri da questo punto di vista per quanto mi riguarda è inattaccabile è stato sempre meraviglioso quindi questo voglio veramente metterlo in evidenza metterlo in primo piano mi ha gasato mi ha galvanizzato quando dice c'è chi piace a chi non piace ma è chiaro tutti anche a chi non piace questa roba a me proprio poi il fatto che sì 59 punti stiamo parlando di non il migliore campionato possibile da fare per la juventus ma questo è questo è la juventus è meritatamente la seconda forza del campionato anche se poi ha perso con la Lazio purtroppo l'altra sera di questo abbiamo già parlato prendere sotto gamba lo Sporting no saremmo dei pazzi hanno eliminato l'Arsenal e non è facile rispetto allo Sporting nel 2017 hanno meno esperienza ma più giovani e più gamba in Europa le partite sono difficili e un quarto è il finale di Europa League ci sono state delle critiche anche a Ronaldo appena arrivato in Italia l'attaccante è valutato per i gol che segna Duggen sta facendo bene i gol arriverà sono passaggi di carriera a 22 anni 23 mi pare no? 2000 nell'arco della stagione della carriera succedono Duggen deve essere sereno ed in equilibrio anche Rabiot lo scorso anno non lo volevano vedere neanche più in campo magari mi sbaglio o non mi sbaglio non sono molto tecnologico ma ho molta memoria le opinioni qui passano come in cambio al vento a Livorno ecco qua secondo me faceva riferimento a magari alcuni contenuti articoli che ne so servizi televisivi che ha visto lo scorso anno che parlavano di Rabiot io mi metto in prima linea perché io ho sempre detto che quest'estate avrei ceduto Rabiot al Manchester United sarei stato felicissimo di ricavare 20 milioni dalla cessione di Rabiot al Manchester United non è che possiamo giustificare le prestazioni dell'anno scorso di Rabiot o di come è stato utilizzato Rabiot dall'allenatore perché è stato francamente utilizzato male l'anno scorso non ha reso non ha avuto una rendita come quella di quest'anno sarebbe sbagliato dire che quest'anno comunque sta facendo male perché sta facendo palesemente bene così come secondo me è sbagliato dire che invece Rabiot aveva fatto bene anche l'anno scorso lui o l'allenatore facendolo giocare in quella posizione da finto esterno in un 4-4-2 asimmetrico ecco queste secondo me sono cose che invece vanno sottolineate vanno messe in evidenza perché non è il discorso di la memoria tecnologia l'anno scorso o quest'anno l'anno scorso è stato un discorso completamente diverso quest'anno Rabiot sta facendo molto bene ed è giusto dirlo come era giusto dire che l'anno scorso invece discorso differente Dujan è molto bravo è giovane non è meno forte dell'anno scorso è un momento in cui non fa gol e vabbè speriamo che possa tornare il gol il prima possibile magari già a partire da domani da subentrato verosimilmente perché immagino che come diceva Allegri sarà a disposizione e poi domanda su Paredes su quello che è accaduto a Pasquetta e qua come al solito Allegri cerca di di ammorbidire il discorso di non partire subito in quarta e dice a Pasquetta abbiamo mangiato molto bene c'era anche della buona carne c'è stata una chiacchierata con Paredes che abbiamo voluto a tutti i costi il giocatore non la chiacchierata il giocatore è stato voluto a tutti i costi ha giocato tanto all'inizio ora gioca meno e capisco i momenti di nervosismo l'importante è che tutti siano concentrati sugli ultimi 50-60 giorni di stagione tanti stanno fuori ma le scelte le faccio sempre per il bene della squadra credo che quest'anno abbiano giocato più o meno tutti sono contento che abbia avuto questa reazione si vede che ci tiene a fare bene in questi ultimi due mesi anche qua secondo me se non sappiamo esattamente tutta la dinamica quello che è accaduto sappiamo che c'è stato un battivecco uno scontro un dialogo tra Allegri e Paredes confermato anche oggi dall'allenatore confermato poi ieri da altre testate ne avevamo parlato come ipotetica indiscrezione di Gazzetta invece Gazzetta ci aveva visto lungo e Allegri ce l'ha confermato anche qua è normale che ci siano secondo me dei momenti in cui alcuni giocatori chiedano più spazio secondo me Paredes non ha diritto di chiedere più spazio perché tutte le sue prestazioni da quando è stato acquistato dalla Juventus un po' rivedibile sia a livello di prestazione sia a livello anche proprio di atteggiamento siccome tante volte quindi capisco quello che dice Allegri è giusto che lui faccia così ma perché Allegri siccome vuole sgonfiare questo pallone quindi a quanto pare sarà convocato Paredes io mi aspettavo un'esclusione di Paredes per via di questi fatti vediamo se sarà così o se Allegri ha semplicemente sgonfiato il pallone per poi rigonfiarlo con la non convocazione per poi sgonfiarlo nuovamente ai microfoni perché sappiamo che questi sono semplicemente giochini nel gioco delle parti no? vincere una partita è più facile vincere una competizione è più difficile vincere è sempre straordinario non è normale quando arrivi a questo punto in Europa League ci sono delle squadre forti tornare a giocare a una finale europea sarebbe un bel successo ma mancano ancora nel caso quattro partite intanto facciamo bene domani poi guarderemo la prossima settimana se riusciremo a passare il turno è vero questo momento non ha senso fare così indicare il momento indicare bisogna arrivare là no domani bisogna giocare la prima partita contro lo Sporting che già per quanto mi riguarda sarà non tosta non tostissima grado ancora più superiore di cerchiamo di perché io non vorrei mai che passasse il messaggio che ma sì dai è l'Europa League e quindi perché in questo momento la nostra parte di girone in Europa League non so se è complicato tanto quanto quello della parte destra della Champions o addirittura più complicato della parte destra della Champions questo grado di difficoltà della nostra parte Europa League con Sporting Lisbona United del Siviglia secondo me è paragonabilissimo la parte delle italiane o addirittura più complicato rispetto a quello delle italiane e si parla di Europa League come Champions come l'anno scorso per quanto mi riguarda era molto più complicata la Conference League arrivata alle semifinali piuttosto che l'Europa League c'erano delle partite di cartello comunque più appariscenti delle partite più affascinanti ecco più affascinanti per quanto mi riguarda nella semifinale di Conference League piuttosto che quella di Europa League quindi attenzione a non fare l'errore di dire eh vabbè ma sai l'Europa League chi se ne frega chi se ne frega è una competizione europea dove tu comunque ti puoi portare a casa una coppa non la vuoi vincere non ti interessa pieno tuo diritto da tifoso di non essere interessato all'Europa League perché non hai la Champions ne hai tutto il diritto io la voglio vincere io ci tengo a far bella figura io ci tengo a passare il turno con lo Sporting poi rispetto le opinioni di tutte di tutti ma la mia è questa io voglio fare bene non è che dico eh vabbè ma è l'Europa lì chi se ne frega no 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 portatela a casa che in un momento come questo per la Juventus vincere una coppa una coppa europea internazionale è qualcosa di secondo me meraviglioso è difficile e non è detto che accada anzi secondo me è complicato che accada ma la Juve ha tutte le carte in regola per farlo quindi datemela datemela io sono contento dice Allegri per quello che ha fatto l'Inter ieri contento mi sembra un termine un po' però stasera vedere Napoli Milan è un bene per il calcio italiano noi siamo in Europa League e ce lo siamo meritati faremo tutto il possibile per arrivare in Champions l'anno prossimo non sono stupito per i risultati degli italiani invece io qua devo dire la verità ieri sera non ho visto la partita dell'Inter perché era una laurea purtroppo stasera sono un'altra laurea quindi mi perdo pure Milan-Napoli cercherò di recuperarle comunque nelle prossime ore sono stupito invece perché non pensavo che il Benfica potesse perdere per 2-0 contro l'Inter è vero che è sicuramente un altro Benfica rispetto a quello che abbiamo affrontato noi non c'è più Enzo che se n'è andato è stato ceduto ieri non c'era Otamendi è rivisitata anche un po' la difesa però comunque il gioco resta l'impronta che ha dato Schmidt resta è vero che nel calcio secondo me infatti sempre la diatriba il connubio il bel gioco il giocare l'architettura la struttura di squadra o i singoli top può essere un insieme delle due cose perché se ti mancano i giocatori forti anche se ha una buona impostazione di squadra poi determinate cose non le riesce a fare e perdi se hai dei giocatori forti e sono buttati a caso perdi perché non hai l'impostazione quindi secondo me è sempre l'insieme delle due cose il Benfica era una squadra organizzatissima che giocava un ottimo calcio soprattutto efficace senza determinati giocatori quell'interpretazione sicuramente cala c'è un calo dal punto di vista qualitativo non mi immaginavo che l'Inter potesse vincere per 2-0 sono sincero quindi io sono stupito pensavo che l'Inter non potesse mai passare il turno cosa che non è caduto per il discorso che vi facevo prima perché l'abbiamo visto che in Champions i risultati si possono ribaltare tra andate e ritorno quindi io credo che a questo punto passerà l'Inter ma non è detto non è detto è ancora tutto tutto aperto come al sorteggio mi aspettavo un Napoli in grado di passeggiare sul Milan oggi vi dico che con tutte le assenze che ha il Napoli sicuramente sarà una partita più aperta e questa è una partita di Champions ma da campionato italiano quindi è ancora più complicata non sarei stupito oggi di una vittoria del Milan questa sera per niente la vedrei anche una cosa abbastanza forse normale anche se per me il Napoli è più forte quindi sono tutti discorsi un po' particolari Pogba è convocato vedremo domani è un bene chi si sta allenando con la squadra e senza fermarsi avere un finale di stagione sarebbe importante perché quest'anno fino adesso non c'è mai stato la stagione è ancora lunga speriamo di averlo per tutte le partite di campionato e anche quelle di Coppa dobbiamo essere bravi ad arrivare a giugno la stagione è bella perché siamo ancora qui a giocarci tutte le competizioni ora bella non è esattamente l'aggettivo che avrò utilizzato però sì siamo ancora dentro tre competizioni anche se una non la possiamo più vincere che è la Serie A destinata al Napoli le altre due le vorrei quantomeno giocare fino all'ultimo secondo quindi se poi saremo bravi a vincerle sarò contento se non meriteremo di vincerle e niente faremo i complimenti agli avversari che saranno stati in grado di superarci paura non ne abbiamo anche se avere paura è un bel segnale significa aver rispetto quando non hai paura tendi a cadere dice Allegri ho la fortuna di avere giocatori come Danilo Bonucci Perin lo stesso Pinsoglio Quadrado Alexandro tutti i giocatori da Juventus da anni con tutti i giovani che hanno giocato quest'anno possono essere il futuro della Juventus la responsabilità dei più vecchi è stato un mix ottimo con l'entusiasmo dato dai giovani sono fortunato ad avere questi uomini all'interno dello spogliatoio questo è un bel attestato di stima da parte di Allegri nei confronti dei suoi giocatori lo Sporting 3-4-3 quindi noi a specchio domani deciderò la formazione serve una partita molto aggressiva compatti e con equilibrio è una partita a 180 minuti giochiamo in casa dobbiamo cercare di vincerla dal cambio regola del gol fuori casa dico sempre che devi vincere uno e pareggiare l'altro oppure vincere uno con un gran vantaggio io mister te ne dico un'altra si possano vincere anche tutte e due te la butto lì perché non è venuta fuori sta cosa magari te lo sai si possano vincere tutte e due le partite all'andata e al ritorno magari si possono anche vincere tutte e due con il gran vantaggio di cui parlavi prima non è vietato ho guardato il regolamento si può fare quindi cerchiamo eventualmente invece che vincere uno e pareggiare l'altro vinciamole tutte e due così siamo ancora più tranquilli e sereni e poi qua Allegri su me fa uno spoiler perché dice chiesa sta meglio domani vediamo vediamo se schierare i tre attaccanti o quattro dipende da domani e non dal modulo dello sporting ora io vi dico perché aggiungere quel quattro alla fine perché perché devi aggiungerlo mi ha parlato di partita molto aggressiva mi ha parlato di tre o quattro attaccanti mi ha parlato di Vlaovic a disposizione quindi io mi aspetto Milik titolare Di Maria titolare Kostic titolare e se mi parla di quattro attaccanti penso immagino che lui sia lì con il dubbio se schierare pure chiesa oppure un centrocampista che secondo me può essere fagioli perché non credo che da Rabio Locatelli vada a privare non penso che voglia privarsi di questi due fagioli secondo me in balottaggio con chiesa ve la dico proprio così papale papale perché secondo me Allegri domani vorrà giocare con la difesa quattro e vuole capire se giocare quattro tre tre con quindi Locatelli Rabio e Fagioli al centrocampo Kostic Di Maria e Milik davanti o addirittura 4-2-3-1 con Locatelli e Rabio Di Maria dietro Vlaovic Kostic e chiesa sugli esterni Vlaovic volevo dire Milik di punta questi sono i due dubbi che ha Massimiliano Allegri in questo momento e dipende dalle condizioni di chiesa perché perché solitamente una squadra con la difesa 3 se tu la vai attaccare con quattro uomini vanno molti in difficoltà e riesci a creare superiorità numerica anche con i tre la mandi in difficoltà perché vai sempre uomo su uomo con il tridente con quattro dovrebbe essere ancora più facile quindi secondo me l'idea di Allegri domani è quella di giocare 4-2-3-1 con i giocatori molto aggressivi sui loro ultimi difensori in modo da giocare uno contro uno e mettere in difficoltà da questo punto di vista questi sono i miei due centesimi ve li lancio lì però questa bisbigliata di Allegri questa volontà di inserire il quarto attaccante piuttosto che il terzo nessuno gli aveva parlato di quattro attaccanti l'ha voluto fare lui insomma ci manda in quella direzione lì vedremo dalle indiscrezioni cosa ne verrà fuori e poi chiedono Allegri appunto questo ve lo dicevo dall'inizio qual è secondo lei la miglior versione della Juventus qualcuno ha detto quella degli ultimi 30 minuti con la Lazio e Allegri ha risposto semplicemente quella che vince e qua si è visto veramente un Allegri sereno e tranquillo cosa che non sono io al momento io non sono sereno e tranquillo quindi spero che questa Juventus possa diventare la versione migliore della Juve che è in testa Allegri quindi un Juventus vincente già a partire da domani però per vincere per diventare un Juventus vincente bisogna veramente vincere un trofeo un titolo e l'Europa League sarebbe veramente una bella soddisfazione all'interno di una stagione con i suoi limiti ma che potrebbe risolversi in maniera un po' più positiva una pillola addolcita una vittoria dell'Europa League mi farebbe veramente bene e credo che farebbe bene a tutti poi se devo dirvi che era l'obiettivo stagionale che avevo in mente inizio anno vi dico di no perché in caso contrario vi direi una bugia io vi chiedo scusa ragazzi siamo a 37 minuti ma no ci sto soltanto adesso più lungo questo video che la stessa conferenza stampa di Allegri perdonatemi era una conferenza stampa doppia Danilo più Allegri e secondo me c'erano tante cose da dire sviscerare commentare analizzare spero che questi 40 minuti non siano stati troppo pesanti ascoltatevi mentre fate un po' di jogging qualcosa del genere o mentre lavate i piatti questa sera un abbraccio ci vediamo domani grazie a tutti